Perché fino a fine del 2022 c'erano delle offerte incredibili di stacking su FTX, su Binance, chiunque ti dava, no, blocchi i tuoi coin, qualunque sia, no, fuffa coin, ti diamo il 7%, ti diamo l'8%, il 9%. Quella era l'ending. Attenzione, però quello che facevano dietro loro era di cercare di avere più cash possibile per andare a fare arbitraggio su future contro spot. Perché all'epoca, ed era una cosa che facevo anch'io, c'era una possibilità incredibile di arbitraggio che ti dava un qualcosa tipo il 10-15% annuo realizzato. No, no, ma su diverse exchange? No, no, sempre su FTX riusciva ad arbitraggiare il prezzo del future e il prezzo dello spot bitcoin. Perché comunque essendo elementi ad alta volatilità era difficilissimo tenerli diciamo in un fair value. Quindi cosa facevano tutti questi operatori, tutti questi exchange? Cercavano di prendere più liquidità possibile, ti dicevano guarda, a te do il 7%, ma in verità loro facevano il 10% con l'arbitraggio. Però gli volevano il tuo cash, così intanto si ritenevano il 3% della tua percentuale. Quando questa cosa è finita, casualmente tutto quel fuffa che ti dicevano che tu prendi il 7% perché fai stacking ed è un progetto, così non era, cioè era tutta fuffa. Dietro c'era che muovevano miliardi, masseramente miliardi su questo arbitraggio di future conto spot del bitcoin e dell'ethereum. Ok, wow, ok. Grazie a tutti.